Con questo video di formazione potete facilmente registrarvi su Rudex, acquistare monete Prism su questo exchange e ritirarle nel vostro portafoglio personale, creato con questo video. Potete scaricare questo video sul vostro canale senza monetizzare. Sotto questo video, cliccate sul link per registrarvi. Alla borsa Rudex HTTPS2.com.arget.rudex.org.r.guru777. Andate sul sito web della Borsa Decentralizzata. La borsa non chiede i dati del passaporto, il numero di telefono o le mail per registrare il vostro conto. Poiché questa borsa di nuova generazione è progettata su una propria blockchain. 100% di anonimato dei vostri dati personali. 100% di anonimato dei vostri fondi personali sulla borsa. 100% di anonimato sulle vostre transazioni. Ci sono limiti solo sul deposito minimo e sul prelievo. Sui limiti massimi di deposito e prelievo no. La borsa è quotata su CoinMarketCap e su CryptoWisser. Fare clic sulla parola. Avviare il trading. Create un nickname per il vostro account e incollatelo in questo campo. Questo nickname sarà presente alla fine del vostro link di riferimento. L'exchange vi ha fornito una chiave privata. Questa chiave viene mostrata solo una volta durante la registrazione. Fare clic su questa icona per copiare la password rilasciata negli appunti. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop e creare un documento di testo. Assegnare un nome al documento. Ad esempio, Rudex Exchange. Inserite la passphrase copiata e il nickname del vostro account presso l'exchange. Assicuratevi di osservare tre punti. 1. Duplicare i dati nel documento. 2. Scattare una foto screenshot e stamparla. 3. Salvare il documento e trasferirlo su una chiavetta. Conservate seriamente la chiave della password. Se la perdete, non potrete mai ritirare le vostre attività dalla borsa. Ora copiate questa passphrase dal documento di testo e incollatela in questo campo per confermare la password fornita. La password verrà memorizzata sul server Rudex in forma criptata. Ora spuntate le caselle. 1. Sono consapevole che perderò l'accesso ai miei fondi se perdo la password. 2. Sono consapevole che nessuno potrà recuperare la mia password se la perdo o la dimentico. La terza. Ho scritto e conservato in modo sicuro la mia password. Fare clic sul pulsante per creare un account. Congratulazioni per esservi iscritti allo scambio. Nel pannello superiore, fare clic su Exchange. Si accede al terminale di trading. Nell'angolo in alto a destra si trova il proprio nickname. Quindi selezionate il vostro paese. Accanto alle tre barre si trova il menu. Sotto la trollbox si trova la chat per comunicare. In fondo c'è il supporto tecnico. Fare clic sulla casella di controllo qui e rimuovere la chat. Ora selezionate la coppia di valute USDT Prism. Successivamente, fare clic su queste tre barre. Fate clic su queste tre barre. Scegliere deposito o prelievo. Cliccate sul pulsante. Lo conosco bene. Poi cliccate sul pulsante. Deposito. Sulla borsa Rudex è possibile acquistare criptovalute con Visa, Mastercard, SEPA, se si dispone di conti in valuta sulle proprie carte. Si mette un segno di spunta qui. E cliccare su Acquista criptovaluta dalla carta. Si sceglie quale criptovaluta si vuole depositare. Bitcoin o Ethereum. Per i Bitcoin vi verrà fornito un indirizzo. Dovrete effettuare il trasferimento a questo indirizzo. Se si sceglie di ricaricare in Ethereum, l'indirizzo sarà questo. Poi si trasferisce il Bitcoin o l'Ethereum in USDT. Poiché la criptovaluta Prism è scambiata nella coppia Prism-USDT, scegliere di ricaricare in Ethereum. Scendi in basso. Importo minimo di ricarica 0,01 Ethereum. Scrittura. Due etere. Questo equivale a 3.911,57 dollari. Il deposito da carta SEPA equivale a 3.547,82 euro. E dalle carte bancarie equivale a 3.643,48 euro. Scendiamo in basso. E premiamo Acquista. Dobbiamo capire che si tratta di un importo approssimativo. L'importo esatto verrà mostrato al termine della transazione. Per depositare in un exchange in un'altra criptovaluta, fare clic su, Gateway. Abbiamo spuntato la casella. Ho accettato di. Selezionare USDT. Leggere le istruzioni. Inviate il vostro deposito Trono TRC20 all'indirizzo sottostante. L'importo minimo è di 10 USDT. Se si invia un importo inferiore, le monete non arriveranno. L'indirizzo è questo. L'indirizzo può essere diverso. Fare clic su questo pulsante e copiare l'indirizzo. L'indirizzo è copiato, in qualsiasi browser, digitare BestChange. Viene visualizzata un'icona come questa. Si tratta di un monitoraggio degli scambiatori certificati. Fare clic su di essa. Voi date. Scegliete una delle vostre banche o sistemi di pagamento elettronico. Ad esempio, PayPal USD. Scambio con Tether TRC20, USDT. Oppure, Advanced Cash USD per scambiare con Tether TRC20, USDT. Ognuno può scegliere qualsiasi ufficio di cambio, che è il più conveniente per lo scambio nel proprio paese. L'aspetto principale. Scegliere uno scambiatore senza feedback negativi. E prestate attenzione alla riserva per il cambio. In cima c'è il miglior tasso di cambio. Fare clic sullo scambiatore selezionato. Prima di effettuare una transazione, parlate con l'operatore dello scambiatore selezionato. Chiarite con lui tutti i dettagli dello scambio. Qui si incolla l'indirizzo del portafoglio TRC20 copiato dalla borsa Rudex. Ripeto. Avrete un indirizzo completamente diverso. Potete scegliere un altro exchanger. L'interfaccia di tutti gli scambiatori è diversa, ma il punto è lo stesso. Inserire l'importo da scambiare 8000 rubli. Inserire il numero della carta. Ottenere 105.72 TRC20. Inserire l'indirizzo copiato dallo scambiatore. Inserire l'indirizzo di questa email. Perché arriverà l'email. Da cui si dovrà confermare la transazione di scambio. Selezionare le caseglie. Fare clic sul pulsante. Scambio. Attendere la ricarica di USDT in borsa. Entrate nel terminale di trading della borsa Rudex. Selezionare la coppia di trading Prism barra USDT. Oggi la borsa vuole vendere monete a questo prezzo. Cliccare sul prezzo proposto. Viene visualizzata la tazza per l'acquisto. Inseriamo 5000 dollari per l'acquisto. Otteniamo 2067810 monete Prism. La commissione è di 2067,81 monete Prism. Premiamo acquista. Avete quindi acquistato delle monete. Ora dovete assolutamente ritirarle nel vostro portafoglio Prism personale. Ci sono due ottime ragioni per farlo. Primo. Tutte le monete crittografiche acquistate su qualsiasi exchange non vi appartengono personalmente finché si trovano sugli exchange. I proprietari delle vostre monete sono i proprietari degli exchange. In altre parole, avete affidato le vostre monete agli exchange. Avete una passphrase per il vostro conto di scambio, ma nessuna passphrase per il portafoglio che contiene le vostre monete. Ciò significa che non sarete mai in grado di ritirare le vostre monete se l'exchanger si disconnette o vi blocca l'accesso al vostro conto. Secondo motivo. Dopo aver prelevato le monete dall'exchange al vostro portafoglio personale, il paramining, la generazione di nuove monete Prism, inizia automaticamente. In altre parole, siete voi a guadagnare in monete, non gli exchange. Esiste un servizio sugli exchange per aumentare il numero di monete. Questo servizio si chiama stacking. È pericoloso. Perché si tratta di una gestione fiduciaria dei vostri cryptoasset da parte di qualcun altro. Prism offre lo stesso servizio su un portafoglio personale. Si chiama Hold Period. Il blocco si attiva automaticamente dopo il primo blocco catturato dal portafoglio nella blockchain. Il saldo più vantaggioso da detenere è di 109.999 monete. Premere su Deposito prelievo. Selezionate nuovamente la casella per dire sì. Dopodiché, si ottiene una continuazione della pagina. Scegli qui. Moneta criptografica Prism. Clicca qui. Conclusione. Istruzioni per il prelievo. Fare clic sul pulsante sottostante per aprire il prelievo Prism. Cliccare su. Prelievo. Viene fuori un modulo da compilare. Noi inseriamo questo modulo. Oggi. Tassa di accesso per il prelievo di 400 monete Prism. Mettete qui il numero di monete. Oggi. Saldo minimo per prelevare 1000 monete Prism. Qui si inserisce l'indirizzo del portafoglio in cui prelevare le monete. L'indirizzo ha il seguente aspetto. Se il portafoglio in cui si prelevano le monete ha almeno una transazione, la chiave pubblica viene scritta automaticamente. Se avete appena creato un portafoglio e non c'è ancora nessuna transazione, la chiave pubblica deve essere inserita da voi. Ricorda. Nessun exchanger chiederà la vostra chiave privata dal vostro portafoglio personale Prism. Quando prelevate dal vostro portafoglio privato non lo scrivete. Se si prelevano monete presso altri exchanger, dove l'exchange fornisce una frase di promemoria, questa viene inserita in questo campo. Controllare tutti i dati compilati e premere invio. I limiti di deposito e di prelievo su tutti gli exchange cambiano frequentemente. Pertanto, tenete d'occhio questo aspetto con molta attenzione. Entrare in G-Tab. Scendere fino in fondo. Fare clic sul link. Andare al browser della blockchain. Questo browser mostra le transazioni dei blocchi generati da tutti i portafogli personali di tutti gli utenti. Scegliere un portafoglio qualsiasi. Ad esempio questo. Copiare l'indirizzo e incollarlo quando si accede al portafoglio online. Supponiamo che siate voi ad aver ricaricato questo portafoglio. E che tu abbia 105.654 monete nel tuo saldo personale. E che 77.423 monete siano già state estratte dal vostro portafoglio personale. Vediamo quanto tempo questo portafoglio ha estratto 77.423 monete. Per farlo, cliccate sul pulsante Dettagli del portafoglio. Vediamo che il portafoglio è rimasto in sospeso per 427 giorni. Durante questo periodo, il portafoglio ha generato 7.723 monete grazie al parameening. Solo nelle ultime 24 ore sono state generate 745 monete. Con un saldo strutturale di 13.307.428 monete sotto questo portafoglio. Sono passati due giorni. Il portafoglio è rimasto in attesa per 429 giorni. Oggi il portafoglio ha fruttato 760 monete in 24 ore. E oggi ha già guadagnato 79.014 monete. Si può notare la velocità con cui i numeri aumentano su parameening. Siete gli unici proprietari di tutte queste monete. Solo voi potrete prelevare queste monete dal vostro portafoglio. Perché solo voi avete la pass frase per quel portafoglio. Nessuno può impedirvi di ritirare le monete, che potete ritirare ovunque e in qualsiasi momento. Nessuna sanzione può impedirvi di farlo in nessun paese. Se osserviamo questo grafico, possiamo notare che più a lungo non ci sono transazioni in uscita dal portafoglio, più velocemente il parameening accelera. E per farlo non è necessario mettere le proprie monete in pila in trust, in pool negoziati in borsa. È possibile accelerare la velocità di estrazione delle monete nel proprio portafoglio personale scaricando Prism Core, un nodo, sul proprio computer. Come posso scaricare Prism Core? Come posso accelerare il download della cronologia su Noda? Come installare Java 8 U221? Come disabilitare l'aggiornamento di Java? Come scaricare una mod per Noda per visualizzare tutte le funzionalità di tutti i portafogli di Forge? Ve lo dirò nel prossimo video. Iscrivetevi al canale per non perdere importanti notizie sulla blockchain Prism.